Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan e con una volta ben ritrovati nel mio canale Anticipo subito e mi scuso se sentite un po' di frusci perché dietro la telecamera ci salva il ventilatore acceso perché abbiamo riniziato a fare video ora a settembre ed è comunque ancora un caldo disumano soprattutto in questo sopparco quindi se sentite un po' di rumori non vi preoccupate Torniamo a fare video, riniziamo regolarmente, ci sarà una piccola novità perché rivediamo un attimino il format del video senza cambiarlo sarà sempre lo stesso, solo non farò più tutorial ma darò una visione complessiva del gioco e non darò in assoluto più il voto alla fine perché il voto lo vediamo personalmente come qualcosa anche di un po' inutile e poi ci sono stati troppi discorsi e problemi laddove la persona se dai 7 la pensa come te, se dai 8 no è troppo abbiamo detto diamo una valutazione finale al prodotto e senza dargli un voto appunto, soltanto un cosa ne pensa appunto oggi vi voglio parlare di Deadlands in questa nuova edizione di Savage Worlds e ve ne parlo a breve dopo la sigla Oggi vi presento Deadlands nei tre manuali che vedete qui davanti e poi vi farò vedere leggermente meglio che sono gli uomini, il manuale del giocatore e del player, la legge e l'inondazione ricordo che questa edizione di Deadlands è l'ultima uscita, ne stanno già programmando un'altra ma dovrebbe uscire nei prossimi 7-8 mesi ed è l'edizione italiana, l'unica edizione italiana per Savage Worlds che è un regolamento universale portato in Italia dalla Space Orange 42 che io ringrazio di cuore ovviamente per questa possibilità di collaborazione e per avermi mandato questi manuali, grazie immensamente Deadlands è un gioco che storicamente ha visto tantissime edizioni, è un gioco della Pinnacle e questa come ripeto è la prima edizione italiana, nella prima versione del manuale che risale al 1996-1997 che ho giocato, era un gioco stand alone con il suo regolamento e tutto quanto e si giocava molto con le carte da poker cosa che alla fin fine c'è sempre la figura delle carte da poker anche in questa edizione italiana però più per i duelli e cose del genere, sono più viste un po' come i tarocchi di Sine Requie non sono proprio carte importantissime ma sono carte che nel momento giusto vanno a sancire un evento in queste varie edizioni si è vista la prima versione base, poi si è vista una variante per GURPS un sistema universale per poi arrivare a questa di Savage Wars che è un'edizione veramente facile non vi vado a parlare delle regole, vi basti sapere che per un combattimento a distanza la difficoltà per colpire, almeno che il master non l'alzi o non l'abbassi, è di 4 e voi andate a tirare il vostro dado nell'abilità o nella caratteristica legata è normale, se andate a sparare dovete andare a prendere il dado sparare dell'abilità se magari cercate di fare un'azione di agilità andate a prendere direttamente la caratteristica i dadi partono dal base del D4, arrivano al D6, D8 per poi arrivare fino al D12 il D12 ovviamente è il dado più potente del gioco e le regole sono semplici per un tiro a distanza devi fare 4 più, almeno che il game master non lo alzi potrebbe essere anche un 2 più, come un 8 più non lo alzi e in più ci vai anche per ogni 4 in più che fai sul dado quindi se la difficoltà fosse 6, se fate 10 è un incremento se fate 14 è un incremento, se la difficoltà fosse 4, 4 più 4 è 8 quindi per ogni 4 è un incremento e gli incrementi si guadagnano tirando il dado che avete nell'abilità quando fate il massimale con quel dado, il 4 col D4, l'8 col D8, il 12 col D12 lo potete ritirare all'infinito e sommare tutti quanti i valori quindi come vedete potete andare a fare degli incrementi incrementi che vi potete andare a fare un colpo più mirato magari invece ve l'ho preso nel petto, l'ho preso nella gola e l'ho ammazzato sul colpo o in un occhio, o potete anche andare a incrementare il danno poi c'è un sistema di gettoni alla fin fine all'interno di Deadlands che sono le stesse di Savage Wars, i Benny per farvi capire che sono monetine che ogni gruppo di gioco ne ha 3 e sempre 3 a inizio avventura, quindi scaricateli perché nell'avventura dopo risono 3 a meno che non prendiate qualche Benny leggendario e le potete utilizzare per riuscire a superare una prova dove avete fallito miseramente parlando un po' dell'ambientazione, il gioco è ambientato tipo nel 1878-79 una cosa del genere, comunque verso la fine dell'Oest alla fin fine e praticamente vede un'ambientazione dove la guerra civile è finita da qualche tempo e al culmine della guerra civile di secessione appunto Nord contro Sud stati dell'Unione contro Confederati nel West che tutti conosciamo uno sciamano Siu, il cui soprannome è Corvo che ha trovato la formula tra l'altro di una specie di semi-immortalità o comunque giovinezza eterna per cercare di scacciare l'uomo bianco dalle sue terre lo sapete l'oro dei Lakota e tutto quanto che andavano a minare nelle montagne Lakota mandati dal presidente Grant, vabbè storia del West che non vi sto a raccontare, questo sciamano per allontanare l'uomo bianco ha aperto i portali verso degli spiriti che vengono da altri mondi una zona di caccia da cui i Manitou che sono questi spiriti cattivi malvagi degli indiani sono riusciti a entrare nel mondo c'è tutta una storia particolare che non vi dico ragazzi ma c'è una figata, non ve la dico perché non ve la voglio raccontare perché è nel manuale della legge e il manuale della legge è quello del Marshall che sarebbe qui il Dungeon Master e quando prendete il manuale degli uomini questo lo devono leggere tutti i giocatori e il Master questo lo deve leggere solo il Master c'è scritto ragazzi non lo leggete se non siete il Dungeon Master non lo leggete perché in questo manuale non ci sono esempi ci sono tutti i segreti dell'ambientazione quindi se un giocatore se li legge basta andiamo a giocare a qualcos'altro ci sono tutti 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 i segreti dell'ambientazione proprio ti dice veramente cosa è successo non dai un po' di fantasia al Dungeon Master ti dice per filo e per segno cosa è successo nel mondo nel vecchio West ed è molto bello perché racconta questa storia che poi non vi dico e racconta chi sono questi spiriti mani tue e quant'altro cosa che nel manuale dei giocatori viene soltanto accennata praticamente c'è stata una grande spaccatura soprattutto in California c'è stato un terremoto disumano e la California è diventata una specie di labirinto tutto quanto sconquassato dove l'oceano è entrato in queste spaccature e addirittura in questi canali voi immaginatevi veramente la California tutta spaccata da terremoti dove c'è l'acqua nel mezzo cioè praticamente tutta quanta è inondata e la cosa bella è che ci sono molte creature che poi da questo portale aperto da questo sciamano corvo sono entrate nel mondo qui ci sono tipo dei draghi giganteschi che si muovono in questi canali ci sono delle specie di tremors che ha Salt Lake City si muovono sotto la città è un'ambientazione bellissima in più è stata trovata questa pietra fantasma che nella versione gli uomini giocatori ci spiega una cosa nella versione Dungeon Master ci dice proprio cosa è vera e propria non solo supposizioni e questa pietra fantasma ha fatto fare lo step evolutivo a livello ingegneristico perché ci si può fare tutto ci iniziano ad essere veramente le prime macchine volanti oppure semplicemente delle armi che sparano molto più potenti o anche semplicemente degli automi dei costrutti che si muovono da soli quindi è un po' un West non dico portato verso lo steampunk comunque un West molto più evoluto grazie appunto e soltanto a questa pietra fantasma che consente di fare appunto cose disumane e in questo manuale che mi hanno mandato insieme l'inondazione tra l'altro lui è uno dei cattivoni dell'ambientazione questo prete questo pastore del West non vi dico chi è ma è uno dei personaggi cattivi più importanti dell'ambientazione e qui nell'inondazione ci spiega appunto del terremoto e di tutto quello che poi è successo nella California perché è stata inondata e quant'altro allora ragazzi non per andare troppo avanti ma per non fare il video troppo lungo l'ambientazione è bellissima è l'ambientazione insieme a quella piratesca più famosa per Savage Wars però per giocarci avete bisogno del Savage Wars che è un regolamento universale tra l'altro non facile io boh bellissimo veramente ragazzi lo intavolate e lo spiegate in 10 minuti siete pronti a giocare così vanno fatti lo intavolate molto velocemente e siete pronti per giocare ed ha tantissime ambientazioni steampunk futuristiche medievali medievali con le zombie c'ha della roba stupenda ma Deadlands diciamo per me è la più bella la più famosa forse la più famosa sia alla fin fine quella che ha avuto più evoluzioni più edizioni e quant'altro e in questa edizione italiana ripeto portata in Italia dalla Space Orange 42 che vi lascia in descrizione il loro sito per ordinare questa roba vi ho fatto vedere tre manuali base che poi sono due base pieno di espansione di storia per farvi vedere un po' come è fatta appunto una parte dell'ambientazione molto importante come la California ma ce ne sono molti altri di ultimi volume 1 e 2 per le varie avventure c'è della roba stupenda è perfetto per tutti gli appassionati del West quindi in descrizione sito della Space Orange 42 e anche i loro social ragazzi non do più voti come detto all'inizio del video vi ho fatto vedere nel frattempo un po' di immagini però vi assicuro che è un regolamento perfetto Savage Worlds non Deadlands quindi il manuale universale è Deadlands per tutti gli appassionati del vecchio West si è un po' evoluta si c'è un po' del futuristico ci sono i demoni gli spiriti ma il vecchio West non è lo steampunk non vi preoccupate qui non ci sono cose strane che vedono al buio con la visione notturna e magari hanno una pistola laser che fura tre pareti qui assolutamente no le armi sono quelle del West poi ci può essere qualcosa con la pietra fantasma che te la potenzia ci sono le secolpie le colte il Winchester fucili da caccia a doppia canna bocca nera quindi sono le armi del West ed è un'ambientazione bellissima secondo me giusta e particolare per tutti gli amanti del West e gli amanti di un gioco veloce che cercano qualcosa appunto di immediato quindi dateci un'occhiata io ancora una volta ringrazio la Space Orange 42 per avermi offerto tutte queste cose spero che ovviamente la collaborazione possa continuare e ragazzi grazie veramente di cuore link in descrizione trovate tutto quanto ragazzi il regolamento non voglio dire la parola perché è brutto non video e poi youtube me lo scura però è una cacchiata è una cavolata vi assicuro lo leggete una volta siete pronti a giocare e le varianti che mette Deadlands con le carte da poker le fiche del poker sono veramente una figata assurda bellissimo non do più voto ma ve lo potete immaginare ciao ragazzi alla prossima